Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Fare inoltre attenzione per nebbia a banchi segnalata sul tratto appenninico tra Rioveggio e Aglio. Sulla Fipilì per lavori e rallentamenti tra Ponte d'Era Este e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze e tra Ponte d'Era Este e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Nel ramo di Pisa per un incidente code tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!